Isaac Newton è stato uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi. Le sue opere hanno rivoluzionato il nostro modo di comprendere il mondo naturale, e il suo metodo scientifico è ancora oggi utilizzato dagli scienziati di tutto il mondo. Biografia Isaac Newton nacque a Ulstorp, in Inghilterra, il 4 gennaio 1643. Suo padre morì prima della sua nascita, e sua madre si risposò quando lui aveva tre anni. Newton fu quindi affidato alla cura dei nonni materni. Da bambino, Newton non era un allievo brillante. Era timido e introverso, e aveva difficoltà a concentrarsi. Tuttavia, era anche molto curioso e appassionato di scienza. Nel 1661, Newton entrò al Kennedy College di Cambridge, dove studiò matematica e fisica. Durante gli anni universitari, Newton fece importanti progressi nello studio della matematica e della fisica. Nel 1665, l'università di Cambridge fu chiusa a causa della peste. Newton tornò a Ulstorp, dove trascorse due anni a studiare e fare esperimenti. Durante questo periodo, Newton fece alcune delle sue scoperte più importanti, tra cui il calcolo infinitesimale, la legge di gravitazione universale e la trinomio di Newton. Nel 1667, Newton tornò a Cambridge, dove fu nominato professore di matematica. Nel 1687, pubblicò il suo capolavoro, Filosofia Naturalis Principia Matematica, Principi Matematici della Filosofia Naturale, in cui espose le sue teorie sulla meccanica classica. Newton continuò a lavorare in fisica e matematica per tutta la vita. Nel 1703, fu eletto presidente della Royal Society, la più prestigiosa associazione scientifica del mondo. Morì a Londra il 31 marzo 1727. Scoperte. Le scoperte di Newton hanno avuto un impatto profondo su diversi campi della scienza, tra cui la fisica, la matematica, l'astronomia e l'ottica. Meccanismi celesti. Newton formulò tre leggi del moto, che sono alla base della meccanica classica. Queste leggi spiegano il moto di tutti i corpi, sia sulla Terra che nello spazio. Newton applicò le sue leggi del moto per spiegare i movimenti dei pianeti. Egli dimostrò che i pianeti orbitano attorno al Sole in base alla legge di gravitazione universale. Che afferma che due corpi si attraggono reciprocamente con una forza proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. Calcolo infinitesimale. Newton sviluppò il calcolo infinitesimale indipendentemente da Gottfried Wilhelm Leibniz. Il calcolo infinitesimale è un ramo della matematica che consente di calcolare aree, volumi e tangenti di curve. Ottica. Newton studiò la luce e sviluppò la teoria corpuscolare della luce. Secondo questa teoria, la luce è composta da particelle che si propagano nello spazio. Newton dimostrò che la luce bianca è composta da sette colori, che possono essere separati mediante un prisma. Altri contributi. Newton fece anche importanti contributi alla matematica, alla fisica e all'astronomia. Tra le sue altre scoperte si annoverano il trinomio di Newton, una formula per calcolare il cubo di un polinomio. Il metodo di Newton-Raphson, un metodo per trovare le radici di un polinomio. La scoperta della legge di gravitazione universale. Lo sviluppo del calcolo infinitesimale. La teoria corpuscolare della luce. Eredità. Le opere di Isaac Newton hanno avuto un impatto profondo sul nostro modo di comprendere il mondo naturale. Il suo metodo scientifico, che si basa sull'osservazione, l'esperimento e la deduzione, è ancora oggi utilizzato dagli scienziati di tutto il mondo. Newton è considerato uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi. Le sue opere hanno rivoluzionato la scienza e hanno contribuito a plasmare il mondo moderno.